Non hai ancora attivato il cashback? Che aspetti? È semplice! Collegati al sito io.italia.it e scarica l'app Io dal tuo store. Apri l'applicazione sul tuo smartphone e fai il primo accesso con Speed o carta d'identità elettronica. Se accedi con Speed, seleziona il tuo provider, inserisci le credenziali di accesso e il codice temporaneo. Autenticati e scegli il tuo codice di sblocco dell'app, da usare in alternativa al riconoscimento tramite la tua impronta o volto. Accedi al portafoglio e seleziona Cashback dall'area in evidenza. Ti basterà leggere e compilare la dichiarazione per procedere all'attivazione. Infine, inserisci l'Iban su cui ricevere il rimborso e aggiungi almeno un metodo di pagamento intestato a te, che siano carte di credito, carte di debito e prepagate, bancomat o app di pagamento. Abilita questi tuoi metodi al Cashback e attendi la mezzanotte per iniziare a collezionare transazioni valide. Puoi controllare periodicamente lo stato delle transazioni valide dal dettaglio Cashback. Ora non ti rimane che utilizzare la carta e il 10% di quello che avrai speso ti sarà riaccreditato. Che aspetti? Guadagni, vinci e cambi il paese! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!